Quanti modi conosci per contattare un vecchio amico con un telefonino? Puoi dargli un colpo di telefono oppure scrivergli un messaggio. Ma da oggi puoi fare molto di più. Entrare anche nei tuoi social network preferiti. Ovunque ti trovi e in qualsiasi momento. Tutto questo grazie a TeamStore, il nuovo sito di team da cui scegliere e scaricare direttamente sul tuo telefonino centinaia di applicazioni anche per i social più usati. Ti registri online via internet o dal portale web di team e poi con un semplice click installi subito l'applicazione per gestire il tuo profilo su facebook oppure su twitter. Vedi è tutto nelle tue dita. A proposito hai mai chattato con un pollice? Scarichi, installi e socializzi immediatamente. Non c'è niente di più semplice a portata di mano perché TeamStore non è nato per migliorare il tuo telefonino ma la tua vita sociale.